che ne pensi perfetta e questo anche sapete una cosa credo possa funzionare io qui metterei una doppia cucitura voi che ne dite ragazzi che vi prende dovresti voltarti non ci credo sono tornata ma per prendere una cosa o per sempre per sempre direi ma come quando perché ne hai deciso preferisci che vada via stai scherzando lo sai che adesso ti abbraccio vero non c'è tempo dobbiamo preparare il videoclip un abbraccino magari solo uno ok però scusate ora tutto il video è pensato per girare intorno a Maggie e Jacques Bianca che c'entra non è che puoi andare e venire come se niente fosse Nausicaa Bianca è la cantante di Mood Wars abbiamo bisogno di lei e poi credo anche di avere l'idea giusta quando vuoi davvero bene a qualcuno la vita è piena di sorprese e quindi questa è la mia idea che ne dite? quindi fatemi capire io sarei il gendarme che rappresenta l'incubo che distrugge il sogno d'amore di ballerine e soldatini? beh l'idea non è male è malissimo ma no Nausicaa tu sei grandiosa nel comandare sarai un perfetto gendarme questo è vero ma ce la faremo con i costumi? ma certo che ce la faremo basta non perdere tempo forza a lavoro Alberto guarda che non è mica una riunione di famiglia papà è venuto a prendermi in aeroporto e mi ha riportato qui sì e sono contento di averlo fatto questa accademia è importante per voi beh se è così grazie per averla riportata prego e Felipe? Felipe beh non l'ha presa bene è solito sull'ario senza neanche salutarmi ma gli ho infilato una lettera nello zaino spero l'aiuto a capire meglio la mia decisione sei triste? beh più frastronata che triste non pensavo finisse così tra noi li voglio bene ma so che questa è la scelta giusta per entrambi non sarò frastronata per sempre magari un giorno mi rincontrerete magari chissà non sono per niente facili queste questioni di cuore c'è qualcosa che ti preoccupa? hai presente il ciondolo che credevo Jacques mi regalasse? non me l'ha più dato mi inizio a pensare che non fosse per me certo che era per te c'era una M sopra sì lo so boh comunque già solo parlartene mi fa stare meglio e infatti sono tornata proprio per questo sai? andiamo dai ciao a tutti siamo Maggie e Bianca seguiteci sul nostro sito ufficiale canali youtube e profili social e non perdete neanche un aggiornamento né un hashtag hey why don't you say come walk in my shoes and see how it feels to be me I stumble and fall I run till I'm breathless just to follow my dream one day I'll find my place one day I'll make you take e and